Salve a tutti! Iniziamo oggi la realizzazione di un nuovo progetto, ovvero di una sorgente di segnale a corrente costante. Che cos'è una sorgente di segnale a corrente costante e soprattutto a che cosa serve? Una sorgente di segnale a tensione costante è un dispositivo che qui sul foglio ho segnato con la lettera a che riceve in ingresso un segnale di input che sarebbe la corrente che l'utente desidera avere e in uscita da proprio quel valore di corrente. Quindi facendo un semplice esempio, se noi volessimo avere in uscita una corrente di 1A, tramite dei potenziometri andiamo a selezionare questa corrente e il dispositivo quello che fa, in pratica, è dare in uscita proprio questa tensione di 1A. In sostanza quindi questo dispositivo altro non è che il gemello della sorgente di segnale a tensione costante che avevo già realizzato nello scorso progetto. Nonostante questo dispositivo sia a livello concettuale molto molto semplice, in realtà nella pratica è molto molto difficile da realizzare. Facendo un semplice esempio, anche se supponessimo di alimentare il circuito con una tensione costante e una resistenza nota, in realtà a causa poi del riscaldamento della resistenza o a causa di altri fattori che variano durante il funzionamento del circuito, è davvero molto molto difficile mantenere una corrente costante e nota all'interno dello stesso. Quindi quello che fa questo dispositivo è garantire attraverso il cambiamento di alcuni parametri di una rete di feedback e garantire che l'uscita sia sempre costante e pari al valore di corrente desiderato. Quindi un dispositivo con queste caratteristiche a che cosa ci può essere utile? Può essere utile soprattutto nella fase di debug delle schede in quanto consente di verificare il funzionamento di componenti attivi che funzionano in corrente, ad esempio i transistor ed è molto utile soprattutto per effettuare delle misurazioni. Per fare un esempio misurare il guadagno di un transistor oppure misurare il valore di una resistenza. Le specifiche che voglio dare a questo dispositivo sono che deve essere settabile la corrente di uscita fra un range che varia fra meno 100mA e più 100mA. Adesso quindi inizierò la fase di progettazione e come sempre i principali step che si andranno a seguire sono la realizzazione dello schematico, la costruzione della PCB quindi della schedina o delle schedine dove verrà montato il circuito, il debug del circuito stesso per verificare che non ci siano errori e poi il tutto verrà messo in un case finale. E successivamente svolgeremo anche la parte di test per verificare che in effetti il circuito funzioni correttamente. Molto bene per questo video quindi è tutto, alla prossima!